dunque ragazzi visto che siete in tanti ad avermelo chiesto vi spiego qual è la tattica di Davide Penna per fare le distorsioni vocali allora i passaggi personalmente sono quattro e il primo ovviamente è quello di cantare con la voce in acuto quindi oltre al passaggio di registro zona M2 dopodiché quello che faccio io è aggiungere una multifonia quindi un air crunch alle corde vere che significa che oltre alla nota delle corde vere c'è una seconda nota che può essere una quarta o una quinta e dopodiché io faccio sventolare le corde false quindi la distorsione che sentite quella più cicciona dipende particolarmente dalle corde false dopodiché se proprio vogliamo fare una distorsione estrema vado a togliere la vibrazione delle corde vere e rimane solo quella falso cordale facciamo un esempio rimanendo fedele alla scaletta di questo sabato che riproporremo alla loggia del leopardo con il mio personale tributo a Chris Corner gli Shadows on the Sun mettete subito un like vi vedo propongo appunto un estratto di Shape of Things to Come che è proprio questa frase cantata i passaggi come vi dicevo sono quattro per quanto mi riguarda zona dumping pulita multifonia vocale aggiunto a questa distorsione falso cordale e proprio se voglio fare lo sborone e lasciare tutti la bocca aperta tolgo la nota vera e lascio solo la distorsione falso cordale ci proviamo The shame of things are gone questo se avete qualsiasi dubbio o nuove questioni da sottopormi scrivetemi pure e se avete intenzione di fare lezioni di canto mandate una mail qui e vi risponderò subito buona serata